Musica Nell'ambito del progetto Gutenberg in corso a Catanzaro e giunto all'undicesima edizione, venerdì scorso si è svolto un interessante incontro di riflessione sul cancro che assale alla nostra regione, ovvero il fenomeno mafioso, meglio conosciuto come ndrangheta. Il progetto Gutenberg richiama quest'anno i valori di amore e di libertà. Libertà intesa come libertà di agire, di pensare, di vivere, quindi come libertà dalle mafie. L'andrangheta in Calabria esiste purtroppo molto forte, cresce, si insienua nelle istituzioni, prolifera, si trasforma e si sviluppa, fa proprie forme di espressioni differenti e meno appariscenti, si fa più moderna. L'andrangheta è dappertutto, nella politica, nella società, nelle banche, nello sport. La Calabria è consapevole di vivere questo male. C'è una Calabria rassegnata adesso, una Calabria spenta, chiusa, depressa, frustrata e relegata in sé stessa. Una Calabria incapace, in sostanza, di esprimersi. Ma esiste anche una Calabria che tenta di reagire ed opporsi al male oscuro chiamato ndrangheta. È la Calabria che combatte, anche a costo di perdere qualcosa di prezioso. Giuseppe Trimarchi racconta questa Calabria nel suo libro, Calabria ribelle, storie di ordinaria resistenza. Un libro che vuole ricordare all'Italia e dal mondo intero l'esistenza di un volto calabrese, differente, coraggioso ed amante della vera libertà. L'opera racconta di tre donne e quattro uomini calabresi che si ribellano quotidianamente all'andrangheta. Sono storie di ordinaria resistenza, le loro, portate avanti nel silenzio, senza clamori mediatici, con tutti i sacrifici che questa scelta impone, sempre, ogni giorno. Sono le storie di Gaetano Saffioti, Deborah Cartisano, Don Pino De Masi, Stefania Grasso, Mario Congiusta, Liliana Carbone, Michele Luccisano. Loro, a differenza di tanti altri, si sono ritrovati a guerreggiare perché costretti dalle drammatiche sequenze di una vita complicata e difficile. La loro non è voglia di apparire, ma soltanto sete di giustizia e di verità. Presenti con l'autore, la mente del Gutenberg Armando Vitale, ex docente e dirigente scolastico del liceo classico Galluppi, il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Marisa Manzini, il prefetto di Catanzaro, Antonio Repucci, il questore Guido Marino e la dirigente scolastica del liceo classico Galluppi, Elena De Filippis. Poi due figure simbolo di lotta all'andrangheta che hanno offerto la propria testimonianza, le cui storie sono raccontate nel libro, ovvero Gaetano Saffioti e Liliana Carbone. Saffioti, imprenditore di palmi e testimone di giustizia, negli anni scorsi vince diversi appalti pubblici e privati, ma l'andrangheta reclama la sua parte di potere e di ricchezza e sottopone Saffioti alle richieste estorsive che sfociano in numerose minacce, intimidazioni e danneggiamenti. Tale situazione soffocante si è protratta per diversi anni durante i quali Saffioti è costretto a subire e pagare, finché nel 2002 decide di dare una forte svolta alla sua vita e denuncia il tutto alla magistratura. Da allora la sua vita diventerà blindata, sempre sotto scorta, perderà amici, commesse e dipendenti, ma decide comunque di restare in Calabria. Liliana Carbone, la coraggiosa mamma di Massimiliano Carbone, giovane trentenne freddato a morte nel settembre 2004 all'Ocri. Carbone, incensurato e titolare di una cooperativa di servizi, fu ferito a morte alla rientro da una partita di calcetto da un cecchino che si era appostato dietro un muretto del giardino. Da allora sua madre, Liliana Carbone, maestra elementare, non ha cessato un attimo di chiedere giustizia, anche con proteste eclatanti ed è diventato un punto di riferimento della lotta per la legalità in Calabria. Durante il confronto, Marisa Manzini, da anni in prima linea della lotta all'Andrangheta, come magistrato in Calabria, ha parlato ai ragazzi della necessità dell'impegno nella lotta all'Andrangheta, di rapporti sempre più stretti ed intrecciati, tra criminalità, politica e giustizia. C'è la possibilità reale di opporci al fenomeno malavitoso con coerenza e coraggio, ha affermato. C'è la possibilità di dire basta per davvero. Dobbiamo però volerlo tutti e possiamo liberarci dal male che ci assille e ci opprime. Questa terra non deve sentirsi rassegnata, ma reagire ed affrancarsi una volta per sempre, puntando e partendo dai suoi giovani, i cui sogni sono ancora puliti e di cui pensieri, per fortuna, non sono ancora inquinati.